Un grande successo anche quest'anno per la giornata della solidarietà Scoppito, organizzata dall'associazione Ollus Una Storia Felice, in collaborazione con l'associazione Ollus Morena Una Farfalla Per Sempre di Teramo e il gruppo dei Red Blue Eagles dell'Aquila, con il supporto di varie associazioni locali, scuole e con il parrocinio dei comuni di Scoppito, Torno in Parte e l'Aquila. Una giornata come sempre finalizzata a finanziare vari progetti a favore delle persone con problemi oncologici. Progetti che mirano a promuovere il benessere del paziente oncologico non solo dal punto di vista clinico ma anche da quello psicologico, sociale e relazionale. In particolare si punta all'acquisto di due macchinari digni cap da donare al reparto di oncologia del San Salvatore, dispositivi medici che impediscono la caduta dei capelli durante la chemioterapia. Sono inoltre in fase di attivazione una serie di servizi completamente gratuiti come dei poli di psico-oncologia destinati ai pazienti e loro familiari, anche in quelle zone dell'Abruzzo attualmente sprovviste di questo servizio. Si pensa poi a corsi di ginnastica dolce in acqua per pazienti oncologici, a degli interventi di medicina estetica applicata all'oncologia finalizzati alla riduzione dell'impatto fisico e psicologico che i trattamenti di chemio e di chirurgia oncologica lasciano sul corpo dei pazienti. Quel ramo del progetto viene seguito dall'associazione Ollus Viva. Il prossimo anno si punterà invece ad un progetto per rendere accessibili le piste da sci sul territorio ai disabili. Una giornata che dal punto di vista degli appuntamenti è stata molto ricca. Ci sono state in mattinata varie manifestazioni sportive organizzate dalle associazioni locali. A pranzo la solidarietà a tavola, un pranzo solidale animato dall'SD Animazione. Pomeriggio e sera dedicata alla solidarietà, tra i sorrisi dei bambini e la musica. Alle 15 infatti c'è stato un laboratorio creativo, altro da me, letture animate del parco, lezione aperta di danza orientale per bambini e adulte, un laboratorio aperto di danze popolari per adulte. Alle 17 il saluto di Lorenzo, gemellaggio tra i comuni di Scoppito, torno in parte l'Aquila e Savigliano per superare le barriere dell'autismo. Nel tardo pomeriggio poi spazio allo spettacolo teatrale Pollicina per bambini dai 3 agli 8 anni a cura del teatro O'Dedalus e una mostra a mercatino animato le vie di Scoppito, con esposizione e vendita di beneficenza dei lavoretti realizzati dai bambini nei loro laboratori sulla solidarietà. E poi Redemption Song, ballate di rinascita, uno spettacolo musicale a cura di Fabio Iuliano e Francesca Catenacci per chiudere la serata.